Sì Non mi vuoi lì ora qui? No Mamma dice che non devo aprire quando sto sola E io perciò ho aperto Vado fino a fatendo, sì E ti piace essere fatendo, eh? Sì Vieni, dai, ti offro qualcosa Un caffè No, non c'è mai piada Come stanno i tuoi fratelli? Ma chi? Che gli ti batti l'occhio? Sì Mi a� influire il batti l'occhio Che termine è? проows como è? Ma persa che Tonin superlозможно Crowchiamoci le batti l'occhio Ma quanto si chiama Angela Ti dico np Tu sa vedrai eh Va, però adesso dovevi parlare Come non è che ce l'ha fatta una maniera di zizza, una maniera di fessa? E si fa, no, io poi la rispetto. C'è solo un battilocchio che si mette con una voglione di rispetto, eh? Che là da battilocchio invece si ha messo con Roberto. Hai capito? Ho un magnificenziato Tonino. Per essere più bella, più grande, meglio tutto quanto. E poi c'è Rosignora. Tutti i bisogni con qualcuno, pure che l'ha dato su di Milano a Roberto. La pensano come a essa. Però io e gli amici miei non la pensiamo così. E forse vi sbagliate. Forse hai ragione Giuliano. Perchè? Per come vedi tu? Roberto che è? Tu batti l'occhio. Bravo Gianni, bravo. Sei brava sai Gianni, lo sai? Troppo bravo. Ancora pure la mamma. Come hai deciso? Perchè? 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 Grazie.